DJ Ernie Wilde, l'ho pronunciato bene? Sì, esatto In arte, in realtà? Il nome è Lorenzo Calatroni Ciao Lorenzo, grazie di essere stato con noi Come ti sei trovato? Bene, è stata una cosa divertente Non lo aspettavo così So che c'era questa gara Mi butto sempre in gare, ovunque Mi ci ficco Mi ha chiamato Marco Mi fa, ho visto che ti piace cantare Allora, sì, ok Però non sapevo era così Però è stata bella Certissimo il prossimo anno, dai Mi piace Magari vengo a che fare il pubblico domenica prossima Devo dire che la chiacchiera non ti manca Ma dipende Forse è un po' l'adrenalina che mi fa così Normalmente no, sono normale Però dai, meno male Normalmente sei normale Stasera invece eri particolare Sì, esatto Sei divertentissimo Sei stato molto bravo Tra l'altro hai portato una canzone Che a me è piaciuta tantissimo Anche perché non è proprio recentissima E quindi è stato un revival Sì, esatto Sì, faccio spesso robe vecchie No, vecchio no, dai Mi stai dando delle vecchie No, faccio spesso canzoni vecchie Ma non è vecchia È vintage È diversamente giovane La possiamo rifare questa Adesso Matteo torna indietro Niente, adesso la aggiustiamo noi E la rifacciamo, la sistemiamo Perché poi Matteo è bravo con queste cose Grazie ancora E speriamo di rivederci presto Ok, che vuoi Grazie Ciao Ciao Ciao